Ma un uomo invece da aiutare, da salvare? L'accusa è pesantissima, violenza sessuale continuata e aggravata e concussione. Don Alberto Barin, cappellano dell'Istituto di Pena milanese dal 1997, è stato accusato da sei ritenuti stranieri di aver concesso favori, cibo e condizioni di vita migliori all'interno del carcere in cambio di prestazioni sessuali. Ci sarebbero addirittura delle immagini che inchioderebbero il prete ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare gli ufficiali di polizia giudiziaria della quarta sezione della squadra mobile e della polizia penitenziaria di Milano, gli stessi che Don Barin incontrava spesso nella routine di San Vittore dove ogni giorno entrano tra i 30 e i 40 detenuti. Eppure lui era considerato da tutti un punto di riferimento, in modo particolare dai più giovani che il sacerdote definiva l'anello più debole del carcere. In un'intervista rilasciata nel 2010 a un giornalino dell'associazione Gerasole dichiarava grazie alla provvidenza riesco a mettere qualcosa sul conto dei più diseredati o a regalare dentifricio, francobolli, orologi e persino occhiali. E ancora, la parola stessa carcere dice che sei fermo, immobile, senza libertà. Il detenuto è come crocifisso e inchiodato nel suo spazio vitale, ridotto alla branda, che diventa il suo loculo, la sua tomba. Adesso Don Alberto Barin è recluso proprio in una cela del carcere di opera da dove deve difendersi da una cosa infamante tra l'incredulità e il sospetto dei tanti detenuti che ogni giorno gli chiedevano aiuto.